Oggi un video graffiante Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Nuovo video sulle tecniche artistiche Oggi faremo il graffito Sì, come quando andavamo alle scuole medie E ci divertivamo con i pastelli a cera A colorare interi fogli di carta Per poi graffiare via il colore E far uscire dei meravigliosi mondi colorati Sotto le nostre mani Rispondendo a un commento di uno di voi Di Maria Chiara Mennucci sotto l'ultimo video Ciao Maria Chiara, un grande bacio e grazie sempre per esserci Ci siamo messe a rivangare i vecchi tempi Quando a scuola facevamo il graffito E allora ho detto, sai che c'è? Quasi quasi faccio un video Perché è una bellissima tecnica Che in forme spicciole Può dare vita a delle cose molto elementari Ma in forme un pochettino più articolato Possono venire fuori anche dei bei lavori E allora spostiamoci di là E andiamo a vedere cosa ho combinato Ed ecco l'occorrente per creare il nostro bellissimo graffito Con colori a cera e china La nostalgia presso il sopravvento Quindi eccomi qua a creare qualcosa Che non faccio da quando ero alle elementari E allora, cosa ci occorreranno? Dei colori a cera comuni Dico comuni perché i colori a cera di ultima generazione Sono bellissimi ma sono acquerellabili E per questo lavoro non vanno bene Voi dovete comprare dei semplicissimi colori a cera Che costano pochissimo Una confezione giotto da 12 è costata 2,50 euro Quindi una spesa accessibilissima Un pennellino di poche pretese Un bulino o un qualunque chiodo Anche una graffetta aperta Dell'inchiostro a china Del semplicissimo inchiostro a china E poi la cosa più importante è il supporto cartaceo Io ho scelto una carta abbastanza grammata Che regga l'umidità portata dalla china Ma nello stesso tempo Una carta che lascia anche una bella patina uniforme Come soltanto un bel foglio liscio Ma accogliente sa dare E quindi ho scelto un Fabriano Bristol Sì me l'ha mandata l'azienda Ma non vi sto dicendo queste cose Della carta perché me l'ha inviata l'azienda Ma semplicemente per farvi capire Le caratteristiche della carta che ho scelto Quindi se voi non volete acquistare un album Appositamente per questo lavoretto Lo capisco perfettamente Ma scegliete una carta che abbia le stesse caratteristiche Una grammatura di almeno 200 grammi Nel mio caso sono 250 grammi La cui texture sia al contempo leggerissimamente aggrappante Bene, cominciamo subito Una cosa utile per chi vuole affrontare un lavoro di questo tipo E' avere più o meno in mente il disegno che si vuole realizzare Questo per far sì che la posizione alla base dei colori a cera Sia una posizione studiata e non casuale Io per esempio voglio fare una sorta di mandala Zentangle Comunque voglio che abbia un andamento concentrico Di conseguenza apporrò i miei colori a cera in maniera concentrica In modo che poi venga un degradé di colori Indipendentemente dal disegno che poi sceglierò di fare Ma che i colori si spandano dal centro verso l'esterno Bene, cominciamo subito E' inutile parlare Proprio per quanto vi dicevo prima Comincerò con un colore chiaro al centro E farò proprio un bel cerchio Cercherò di saturare molto bene il colore Quindi fare una bella patinona A un certo punto vi accorgerete che il foglio non prende più colore Quando invece di mettere lo gratterete via già col colore a cera E allora a quel punto fermatevi Quindi continuo ad apporre altro colore Io qui adesso sto dando un degradé Da caldi a freddi Ma voi fate un po' quello che vi pare Insomma a vostro gusto Come vedete non lascio neanche uno spazietto bianco E la cosa che mi interessa maggiormente farvi vedere E che lì dove si incontrano i due colori Li accavallo leggermente Vedete? Faccio entrare un po' di arancione all'interno del giallo E poi un po' di giallo all'interno dell'arancione Così Bene, continuiamo così Fino a che tutto il foglio non sarà ricoperto di colore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non permetterà alla china di aggrapparsi totalmente Ma non vi preoccupate Fatela asciugare E quindi date una seconda mano E vedrete che lì la coprenza sarà definitiva Come vedete Nel frattempo che ho finito di pitturare di nero il foglio Già la prima parte si è asciugata E allora ripasso da subito la seconda mano di china Senza attendere oltre a questo punto passata su tutto la seconda mano Aspetto che il foglio asciughi perfettamente Benissimo Benissimo pronti per iniziare Un foglio di carta e proseguiamo il riempimento del tutto a fantasia Quindi sì stare attenti ma l'errore può essere camuffato perché nessuno sa quello che vogliamo fare L'importante è procedere con mano decisa e tanto divertimento Adesso monto il mio mandala così in maniera del tutto casuale Troverete delle imperfezioni Delle parti non del tutto speculari Ma non mi importa Perché in questo momento voglio soltanto godere del gesto di graffiare E non voglio prendere righelle squadretta per calcolare gli spazi Voglio proprio dar libero sfogo al mio polso E alla scoperta susseguente dei toni Che vanno a colorare il mio mandala Guardate quindi come quell'armonicum di cui vi parlo Anche se le forme non sono uguali Questo dovrebbe molto disturbare In realtà viene tutto omogeneizzato ed inglobato in un lavoro di armonia appunto Dal degradare dei colori che rimane perfettamente omogeneo in tutto il disegno Quindi non è necessario fare le cose meccanicamente Ma è favorevole farle in maniera distesa, continuativa E soprattutto cercando un'armonia prima interiore e poi da proiettare nel foglio Grazie a tutti Bene spero che questo mio disegnino così a mano libera molto estemporaneo vi sia piaciuto Io mi sono molto rilassata Spero di avervi regalato qualche ricordo e qualche momento di serenità Noi ci vediamo dopo le foto di là Ciao Visto che bello il mio graffito con questo degradare di colori Questo mandala un po' anche impreciso perché non ho voluto prendere righello e squadretta Se mi conoscete sapete che io aborro righello e squadretta Proprio mi danno fastidio le misurazioni nei disegni E quindi vado a mano libera Sono stata contentissima Vi dico la verità Avrei voluto continuare almeno per altre due ore Il senso di rasserenata tranquillità Il vedere venire fuori da quella campitura nera Quel bel colore che non era troppo sgargiante Era il colore pacato dei pastelli a cera Quell'odore di pastello a cera che mi ha riportato indietro nel tempo Bellissimo Provate ragazzi Specie se vi piace fare mandala, zentangle Vengono bellissimi con questa tecnica E allora se questo video vi è piaciuto Graffiatevi un bel pollice in su Condividetelo sulle vostre pagine facebook Fatemi pubblicità con i vostri amici Ve ne sarò grata per sempre E soprattutto venitemi a trovare sui miei altri canali Ombretta e due cuori e una k Vi aspetto anche lì Ma sempre vi aspetto qui Per il prossimo video Grazie per essermi sempre di ispirazione Per i contenuti del canale E noi ci ritroviamo sempre qui Per un prossimo video creativo Ciao alla prossima volta Mua Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.